In questa video guida parliamo di spaccalegna manuali. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Lo spaccalegna è un dispositivo che ci permette di dividere in più parti tronchi e grossi pezzi di legno. Gli spaccalegna manuali più semplici sono costituiti da uno stand sul quale è installata una lama sulla quale va appoggiato il pezzo di legno che vogliamo spaccare. Una volta appoggiato il pezzo di legno, dovremo applicare una forza su di esso con un martello e la lama lo spaccherà in due parti. Gli spaccalegna manuali più avanzati, invece, sono dotati di sistemi di leve e pistoni idraulici che ci aiutano nella fase di rottura del pezzo di legno. Essi, infatti, ci permettono di spaccare un pezzo di legno applicando meno forza di quella che normalmente sarebbe necessaria. Grazie a tutti.